Alla data del 31 maggio sono stati registrati circa 3.600 casi di contagi da Covid-19 in più sul lavoro rispetto al monitoraggio precedente del 15 maggio e quanto emerge dal quarto report nazionale sulle infezioni di origine professionale denunciate all'INAIL. L'analisi per professione evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta dai contagi, con circa l'84% gli infermieri. Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, l'industria alimentare, chimica e farmaceutica. Il 71,7% dei contagiati sono donne e il 28,3% uomini. L'età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi. Più della metà delle denunce, 55,8%, quasi 6 casi mortali su 10, 58,7% si segnalano nel nord-ovest dell'Italia. I primi a ricevere il vaccino saranno i lavoratori della sanità e poi le persone a rischio per età o perché colpite da patologie, le forze dell'ordine e dopo, se gli studi clinici saranno ok, tra novembre e dicembre toccherà a tutti gli altri. Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, che con i colleghi di Francia, Germania e Olanda ha preparato il contratto con AstraZeneca. La crisi del coronavirus potrebbe spingere fino a 100 milioni di persone all'estrema povertà, mandando all'aria i progressi degli ultimi tre anni. Lo afferma il direttore generale dell'FMI, Cristalina Giorgeva, sottolineando che alla luce di questo le autorità devono fare tutto quello che è il loro potere per promuovere una crescita più inclusiva. La buona notizia è che i governi intorno al mondo hanno messo in campo misure straordinarie per un ammontare di 10.000 miliardi di dollari. Nell'estate del Covid-19 il 49% degli italiani rinuncerà alle vacanze e una buona fetta lo farà per motivi economici. E quanto emerge dall'indagine realizzata da Demoscopica? Si tratta di quasi 8 milioni di rinunciatari per cause di forza maggiore, principalmente tra le categorie dei lavoratori autonomi, 21,4%, in misura doppia rispetto ai lavoratori dipendenti, 12,7%. Altre rinunce sono legate al timore di viaggiare in questo periodo di coronavirus, 24,9%. L'8,7% del campione ha rinunciato al di là del coronavirus. La Sicilia, insieme a Toscana e Puglia, si collocano sul podio delle destinazioni più gettonate da chi ha dichiarato di trascorrere una vacanza in Italia, 92,3%. Appena il 7,8%, al contrario, ha in programma un viaggio fuori dai confini nazionali.